ah il carro è bello è bellissimo con il carro è spettacolare senti ho deciso di scaricare di nuovo pubg solo per il carro andiamo a dove c'è il punto verde che ha messo lui vai non so quanti saremo forse 23 e comunque diciamo che pubg spero che lo riprendano come gioco a livello di sviluppo se lo facciamo funzionare c'è un'atmosfera particolare niente male tipo quelle partite mo ti faccio un esempio quelle partite ah Dani ti lascio un'arma qua c'è un'arma qua c'è un'arma qua grazie tizio mi servivano le munizioni ah non c'è neanche un altro si si ammazzano lì con lui arriviamo amico no il nostro amico raga anch'io simu dov'è questa bestia? si era lanciato ah è morto infatti non lo vedevo più mi ha detto shit tieni discesa hai pure i colpi d'arresto infatti mi ha fatto malissimo c'ho quattro colpi assalto però non c'è un 25 dobbiamo aprire l'equipaggiamento ah vedi che da qua uno 66 metri copaggiamento Daniel c'è un altro no no non mi ha sparato sto maledetto schifoso è andato fuori? 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 tranquillo ti salvo io gli scudini stavo fermo le moraglia fermo le moraglia fermo le moraglia hai gli scudini? si me ne metto si me ne metto ah non c'ho i soldi dammi i soldi torna a casa tizio oh uno qua da ne? entrato? anche quest'arma ci vuole 9000 colpi per uccidere andiamo all'equipaggiamento nostro che dici? magari andiamo non è andato non è andato che c'è gente si sul tetto uno a terra qual è la testa oh che botta però io lo puso in testa bello sto Winchester un elicotterino oh un elicottero aspetta simon io vado a prendermi l'equipaggiamento mi è così rotto uno? rotto quello sull'elicottero? ma come cazzo ho fatto? eh non mi fa più saltare qua è la casa? qualcuno? non lo so io si sparano al nostro aspetta provo a prendermi l'equipaggiamento qua dobbiamo andare in safe pure? ok vado dove l'ha visto? il ventilatore non è un nemico non ti fa lanciare una granata? o push come un animale? li perde pure di visto ah aspetta ti voglio dire ah riesce di usare il veicolo dove l'ha acceso Daniel? qua dove sto io? no è sopra andiamo in safe si comunque mi piace questa modalità almeno si fa più 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 velocemente ma siamo senza piastre? le compriamo? no no io ce l'ho ne ho 5 eh ma tizio no le do io ok allora dagliere tu però non ne ho più andiamo via dobbiamo trovare ok dobbiamo trovare quelle compriamo? ci abbiamo soldi? no? lasciate si le ho io però no teniamoli dobbiamo andare andiamo 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 pollo pollo è una parola 25 quello lì è il fucile che ho usato Daniel niente male ho marcato un fucile di precisione vedate un nuovo sfizio come un car dei primi giorni io ne ho usato un altro pure che era bello però non so che fucile sia forse è questo winchester qua la carabina no non era quello no sai cosa hanno cambiato al fall? più lento ammirato pure col 3x lento a zoomare tu vuole il laser sopra comunque c'è un uso schifoso del rapid fire in questo gioco a voglia un sacco di gente che lo usa che è schifo a voglia eh non c'è uno premio a colpo singolo perché poi eh poverini c'è uno vittino che gli balla la mira e vindi che è monco poi si incazza insomma mi sa che lo scuf lo sai che molti comprono sto scuf lo sospetto che sia quello con il rapid fire qua c'è un torneo con lo scuf vai 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 al torneo con lo scuf vedi se te lo fanno so uno là da neè un altro là in movimento abbiamo dorato giù uno alle mie spalle uno alle mie spalle brava giù alla nuova zona sicura c'è ce ne sono pure altri mi ha dovuto rischiare a prendergli gli scudini Tizio ha capito che stiamo a lottare qua noi io ho finito gli scudini dandoglielo a lui ma il tizio non ha capito che quelli stavano sparando contro qualcun altro prima alle nostre spalle da dove si guardamento addosso a lui distrutti oh da da lì è stato in safe restate in safe prendo gli scudi oh grazie grazie a fanno il gabbo oh cazzo roland è uno qua oh cazzo roland è proprio qua l'altro lato eh ma sono tre merda 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 erano tre pensavo fosse uno ma tu ti sei buttata addosso a loro eh no e non sapevo solo lì forse c'era non c'era la ricopertura la nostra è ancora arriva attenta ancora buono almeno l'ho coperto Daniel ha otto kill metti la stavo a segnare pure ti copriti pure da sinistra che c'è gente che vedi che ti spara da sinistra metti fai che di sotto al muretto fai che di sotto al muretto lo so ah beh lo so secondo me si paracazzo sono da voi dopo è una maschera a me si è buggata l'applicazione vedo messaggi doppi arrivo 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 E fuori viene. Oh, è preso. 10 bombe! Non c'è così. Grazie, grazie. Grazie.